Ha detto che il successo era la progressiva realizzazione di un ideale degno. Chiunque ha un obiettivo e fa per raggiungerlo, ha successo. Molte persone pensano che hai successo se hai tanti soldi. Spesso hai molti soldi perché hai successo, ma non è così. Non direi che madre Teresa avesse tanti soldi, ma è una donna che ha avuto successo. Ci sono delle barriere, ce n'è solo un paio. Due barriere. Una è il nostro condizionamento. Il condizionamento che avviene nel nostro inconscio, al tempo della nostra infanzia. Tutto quello che facciamo è comportarci e parlare come le persone che abbiamo intorno. Per questo impariamo le lingue che conosciamo. Se ci fossero state dieci lingue parlate a casa nostra, avremmo imparato dieci lingue, senza problemi. Di solito ce n'è solo una ed è l'unica che impariamo. Cresciamo e diciamo, oh, non potevo imparare un'altra lingua. Potremmo impararne a centinaia se volessimo, possiamo fare tutto. Ma io penso che siamo condizionati, abbiamo questa forte condizione. Di solito sono convinzioni sbagliate. E questa è la barriera che sta dentro. Mentre quella che sta fuori è il nostro ambiente. Noi abbiamo la tendenza di comportarci come le persone attorno a noi. E se ci pensi, è una cosa senza senso. Perché se studi le statistiche, il 95% delle persone vive la propria vita e non la vive mai nel modo in cui vorrebbe viverla. Lo sai che il 95% della popolazione in questa nazione, diciamo Nord America, il continente più ricco nella storia del mondo, lavorano produttivamente diciamo 40 dei loro 65 anni. E finiscono con il non avere soldi. Deve esserci qualcosa che non va. Ma il 5% delle persone invece è finanziariamente a posto o indipendente. Stai cercando di deprimere questa trasmissione perché... No, anzi, anzi, penso sia un'idea davvero eccitante questa. Vedi, l'idea che sta dietro è che chiunque possa vincere. Chiunque. Ma se iniziassimo a studiare queste statistiche, capiremmo che... Ehi, forse è meglio pensare a me anziché seguire gli altri. Molte persone trovano lavoro, si guardano intorno, vedono come gli altri fanno loro e iniziano a farlo alla stessa maniera. Si dovrebbero fermare e pensare se qualcuna di queste persone sappia cosa sta facendo. C'è un modo migliore per farlo. Abbiamo bisogno di integrarci, non vogliamo escluderci, non vogliamo essere licenziati. Esatto. Entra in fila, prendi un numero, proprio come tutti gli altri. Quello sarebbe perfetto nel regno animale. Ma gli esseri umani non dovrebbero vivere così. Io penso che dovremmo muoverci un po', escluderci un po', essere diversi. Ma non per il gusto di essere diversi, ma perché siamo diversi. Pensiamo cose diverse. E io penso che dovremmo iniziare a pensare, costruire immagini nella nostra mente di cosa vogliamo fare e farlo. Emerson lo ha fatto, Edison lo ha fatto, Marconi lo ha fatto, Samuel Morse lo ha fatto, Buckminster Fuller lo ha fatto e tanti altri ancora. Loro erano diversi, loro si sono fatti avanti, si sono mossi un po'. Grazie. 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 Grazie a tutti.